e ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video di funghi natura valtellina andiamo avanti con la serie conoscere i funghi stavolta vi portiamo un boletus uno dei quattro boletus l'ultimo che ci è rimasto perché ci siamo accorti che hanno fatti tre dovevamo fare l'ultimo che appunto è il boletus estivalis fantastico fungo da molti ritenuto il migliore tra i quattro andiamo a scoprire un attimino meglio questo fungo allora il cappello va dai 4 ai 20 centimetri sodo carnoso poi molle emisferico piano convesso il margine regolare disteso in curvata in esemplari giovani la cuticola è liscia ovviamente il colore è compreso tra il nocciolo e il bruno marroncino osservata con una lente di ingrandimento anche in esemplari giovani mostra una areolatura screpolatura che appunto con il clima siccitoso con l'età tende pian piano ad allargarsi lasciando intravedere appunto il colore di fondo biancastro della cara del cappello allora l'immenoforo è formato da tubuli lunghi e rosandati al gambo in principio sempre di colore diciamo bianco poi giallo verdastri e sono immutabili i pori sono fini e mutabili con colore ai tubuli la sporata è o crace o grunastra il gambo va dai 2,16 per i 2,6 centimetri carnoso cilindrico spesso ingrassato alla base talvolta contorto il colore marroncino nocciolo lo sapete tutti ormai e tendente a scurire ricoperto da un reticolo ha appunto a maglie fini su tutta la superficie non a caso il boletus a estivali si può chiamare anche boletus reticolatus la carne è soda negli esemplari freschi molle in quelli maturi di colore bianco immutabile l'odore è molto intenso e gradevole il sapore è dolce l'odore appunto molto gradevole come tutti i voleti quattro voleti che vi abbiamo presentato fino adesso l'ecologia allora è simbionte fruttifica dalla tarda primavera all'autunno infatti il primo boleto che esce che spunta predilige ambienti soleggiati e boschi di latifoglie in particolare castani faggi cerri occasionalmente anche sotto conifere o in ambiente di microselva alpina sino anche a 2.500 metri di altitudine comunque sono casi molto rari diciamo che il boletus estivale si trova a temperature più basse cioè a temperature ad altitudini più basse quindi siamo sui dai 700 ai 1000 metri 1200 anche è un attimo commestibile inutile che ve lo dica molto ricercato e commercializzato e questo con questo concludo fatemi sapere cosa ne pensate di questo bellissimo fungo qua sotto nei commenti e niente abbiamo finito così con le quattro specie fungine che avevamo lasciato in sospeso tempo fa se vi siete persi magari le altre tre andate a vederle che sono sempre nel canale scorrete i video le troverete e niente iscrivetevi al canale lasciate mi piace al video se vi è piaciuto commentate condividete seguiteci su instagram funginatura valtellina noi ci vediamo in un prossimo video buona giornata a tutti